Teramo ha bisogno di infrastrutture, una di queste è il ponte sul Tordino, è così? Sì, senza entrare nel dettaglio delle grandi infrastrutture, oggi abbiamo una problematica che è un po' questa tensione che c'è, chiamiamola tensione sociale, tra la Teramo Ambiente che è di fatto concessionaria, è destinataria e nello stesso momento deve anche conservare e vigilare quel guado e i cittadini che in modo anche onesto e legittimo devono attraversarlo per poter raggiungere alcune frazioni. Questa è un po' la controversia che si è creata in questi giorni e la mia proposta è quella di andare a progettare, o meglio parliamo di una idea, poi di un progetto e speriamo che possa essere realizzato un ponte che possa attraversare il fiume Tordino, anche perché la realtà della nostra città è cambiata, oggi per attraversarlo abbiamo delle difficoltà o ci si fa ricorso alla strada comunale di Poggio Cono che è una strada che ha delle difficoltà di manutenzione o addirittura il vecchio ponte, il famoso ponte a catena che diciamolo francamente ha delle criticità strutturali, tant'è che la sua portata non consente l'attraversamento di mezzi pesanti. Che cosa bisogna pensare? Bisogna pensare a un nuovo ponte, è chiaro che i tempi saranno lunghissimi, però in un momento in cui le nostre strade hanno difficoltà, nel momento in cui si pensa anche, come è stato fatto in passato nel mese di dicembre, a una funivia che collegava l'università con la città di Teramo, forse questo ponte risolverebbe tanti problemi. Tanti problemi perché oggi la frazione di Poggio Cono è lontana dalla nostra città, andrebbe ad intasare il centro storico se oggi un mezzo pesante dovesse attraversarlo, quel guado troverebbe sicuramente la difficoltà e l'impedimento da parte della termoambiente. Abbiamo delle tensioni sociali non ultime, gli ultimi atti vandalici nei confronti di alcune telecamere che stavano lì, è chiaro che è una coperta corta. La creazione di questo ponte porterebbe ovviamente a molteplici vantaggi? Certo, assolutamente, consentirebbe intanto un risparmio economico per i cittadini stessi perché oggi non dovrebbero più percorrere tutti questi chilometri per raggiungere sia la città ma anche la parte antistante alla stessa zona. Parliamo della zona di Terra Bianca e fronte c'è Collaterrato, c'è Villa Pavone, quindi ci sono realtà urbanistiche ben definite e anche grandi. E poi sarebbe anche una questione di sicurezza, immaginiamoci se un mezzo di soccorso dovesse percorrere purtroppo quella strada, immaginiamoci se dovesse farlo percorrendo 15-20 chilometri invece lo potrebbe fare benissimo percorrendo 4-5 chilometri.